L'Aicre è la più grande organizzazione di enti locali e regionali con più di 100.000 enti associati. L'associazione italiana, con sede a Roma, rappresenta in modo unitario le regioni, le province e i comuni a livello europeo. Quest'anno l'Abruzzo ospiterà la quindicesima assemblea congressuale nazionale, una a due giorni che si svolgerà a Montesilvano, un'occasione per comprendere quelle che sono le attività dell'Aicre e per rinsaldare i rapporti di confronto tra l'Europa e i cittadini, soprattutto in un momento storico in cui i confini europei sono messi sotto la lente di ingrandimento per i flussi migratori. Un rapporto che è venuto a mancare perché si è sempre parlato di Europa economica e non di Europa che guarda e va verso i bisogni reali e quindi la partecipazione diretta del cittadino a ciò che accade nella nostra comunità europea e quindi domani si parlerà anche attraverso dibattiti che si terranno nel pomeriggio con la presenza di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna ed altri importanti relatori, si parlerà anche di economia circolare. Tutto ciò che si deve fare deve essere fatto all'insegna del riciclo, quindi non dello spreco. Quindi una cosa che viene organizzata, che viene prodotta, deve avere già in sé la finalità che può essere riutilizzata. Si dibatterà in mattinata anche di ciò che sta accadendo intorno al fenomeno migratorio, quindi tutte le politiche che l'Europa sta mettendo in campo. Ecco, tutto questo in queste due giorni partecipata da tanti sindaci della nostra regione, da tanti delegati che verranno da tutte le regioni d'Italia, ma soprattutto anche da sindaci che verranno da regioni limitrofe, vicine e lontane, proprio per attivare, proprio per far sviluppare un dibattito interessante.